Il Giubileo, l'anno della remissione dei peccati. Un evento che da oltre sette secoli scandisce la vita della Chiesa Cattolica. Una storia fatta di cammini, di uomini e donne, alla ricerca di un senso, alla ricerca di perdono. I Giubilei. Un cammino nella storia. Un cammino sulla via della misericordia.